Aveva detto che usciva con le amiche, invece era una scusa, era una scusa per non restare in casa. Aveva detto che usciva con le amiche, era una scusa per non restare in casa. Mia sorella ieri sera è tornata molto tardi. Stava d'aspettarmi per poter entrare in casa. Alla improvviso allora ho capito per la prima volta innamorata. Aveva detto che usciva con le amiche, invece era una scusa, era una scusa per non restare in casa. Aveva detto che usciva con le amiche, invece era una scusa per non restare in casa. Ho rivisto mia sorella soltanto a colazione, non mi ha preso in giro come al solito faceva. Aveva detto che usciva con le amiche, invece era una scusa, era una scusa per non restare in casa. Aveva detto che usciva con le amiche, invece era una scusa per non restare in casa. Aveva detto che usciva con le amiche, invece era una scusa per non restare in casa. Aveva detto che usciva con le amiche, invece era una scusa per non restare in casa. Aveva detto che usciva con le amiche... Aveva detto che usciva con le amiche... Grazie a tutti